il produttore già sbattimento troppo sbattimento dai partiamo dalla 1 e voglia di cantare non è che bisogna essere esperti in tutto ci sarà qualcosa che sai fare bene no? l'amore fare bene l'amore il problema che ancora prima di cominciare questo disco qui siamo già in rissa che due coglioni come che due coglioni? tu ti devi attenere alla disposizione della produzione la produzione è qui per fare quello che l'artista vuole si più o meno si adesso non sento un cazzo perchè tutto quello che non si può comprare costa ok fammi sentire solo un attimo lo in una bottiglia yes no no è perfetto è perfetto no io che pago a razza le poche ore in cui sto davvero bene c'è uè c'è uè stronzi io io solo un pezzo di ritornello eh non si può sentire no? non ti preoccupare mi diceva mia madre non ti preoccupare mi diceva mia madre non ti preoccupare mi diceva mia madre tanto tu lo sai basta 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 no